e bello ragazzi ben ritrovati su mavi channel sono il vostro mino e qui c'è mina e devo dire che in questi giorni nei video che sono usciti io l'ho pensata molto perché ragazzi andate e risentirli ha fatto certe voci io ho detto no anche te tipo c'era quella del ponte fatto che bel ponte io ho detto no e qui ci devo fare tipo un video tipo delle 10 delle 10 ore tipo che bel ponte che bel ponte e poi c'era anche un'altra c'era anche un'altra ma non mi ricordo dove comunque va bene come avete sentito dall'intro ho già tirato il dado e ora mina vi dirà cosa è uscito fuori younger games e vedremo come la legge quando ila sta giocando perdiamo andiamo a vedere allora registra da solo e ora partirà la nostra canzoncina visto come parica bene in che lob sei oh hai cambiato qui arrivo 35 35 come c'è in una puntata di di scabs cioè il paziente che devi dire 35 dove è? dove è minu? oddio ok menù survival games e è sparito ah ecco fermi tutti ho scoperto una cosa se io faccio 35 party brava fai party minu gilda party per un lungo viaggio com'è che si fa? io ne so se te è quello che... ah si aspetta così scusami devo scrivere slash party e poi ila gilda vedi? e ora ila c'è scritto nella chat che sei invitata devi scrivere party minu gilda cosa vuol dire questo? ragazzi mi farà stare un po' più felice a me perché non sapete quante volte i video vengono tagliati perché io entro in un server e faccio ok ila ci sei? no non ci sono non è vero cosa succede quando sei nel party perché mi ha spiegato il mio amico blaze dinamo qui che saluto non lo sapevo vuol dire che io quando entrerò in un server ila mi segue è risalto tutto scusate ma sono scemo e non sapevo di questa cosa vediamo un po' se funziona allora io vado vediamo un po' se funziona si funziona casomai troviamo qualcuno che conosciamo eh no eh wario bello wario l'avevo mai visto allora io mi prenderò sempre il solito perché tanto ila io solo quello ila perde io ho meno gemme perché perché oggi ho comprato e provato il non mi ricordo come si chiama però vabbè diciamo è il il fosso di helm del ma cosa stai dicendo? è un minigame che qua è molto è molto benigno sei dall'altra parte e quindi? no no si prova in mezzo basta basta scappare proviamo 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 le ho femmine come la leak mi stanno rapicchiando vieni 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 va veloce va veloce che è successo? è morto qualcuno io ho droppato tutta la sua domanda vieni ottico succede dietro Ti sta uccidendo O fallo, uccide, vieni Vieni, vieni, eccolo Ciao bello No, no, no Ho sbagliato, ho picchiato il tuo cane Era lì, merda Porca Dai, per una volta che vinco Aspetta, vado da un'altra parte Dovrebbe aver smesso di inseguirti Fermo, fermo, ammazzo qualcuno Ammazzo qualcuno Vieni qua, va, vieni qua stanzettino Ma ce l'hai la spada Sì, ce l'ho l'ascita Ma io ce l'ho la spada di pietra se la vuoi Se vieni con me Se mi trovi Mi hai trovato? No, sì Mi picchia sempre il tuo cane? No E tutto c'è? Attacca, non li attacca Ecco uno Mi attiri a te Ecco, sono morta Vaffanculo Guarda, questi siamo in parte E mi hai scappato Mi hai scappato Usa quell'altro Ma a parte parte A parte parte Andiamo Oddio Andiamo Andiamo Dai, voglio fare un altro Giuriamoci Allora, cos'è che devo prendere? Non quello che mi attira a te Che mi uccide Allora cosa? Il Wilkite Prendi quello Tipo Hai scelto? Sì Speriamo Bra Oh, c'è il palo davanti Della stasera Dove sei? Non lo so, sì Quattro Tre Uh Uno Oh, c'è più davanti Uno Che picchia Morto Oh, che picchia No Il cane Ma il mio? Sì Teni, Bobby Bobby Ferma, ferma, ferma Siamo partiti Benissimo Benissimo, ragazzi Oh Se c'è qualcuno Fammi sapere Qualcuno che Non c'è dove sei? Sono qua Sono qua Sono qualcuno che si dimentica C'è un tizio Dove, dove? Qua Sono morta Dai, ma come ho fatto a morire? È morto anche lui Ecco, prendi tutta la mia roba Dovevo l'ascia Facile uccidere la gente Ferma Hai preso la mia roba? No, ragazzi Cosa c'ho? Di ferro Guarda che qua c'è un'ascia L'hai lasciata qua Vabbè, ragazzi Sono fortissimo Oggi, ragazzi Va alla grande Sono morta Ma io la vedete Che guano dell'aria È simpatico Ora però Deve essere i miei occhi Uh, ma qui i ragazzi Lasciano tutto Ma aiutatemi a di tutto Aiutatemi di tutto Attento Ok, però io allora Queste cose Me le levo Perché se qualcuno Me le vede Pi' forte di me Io per ora Non posso Lasciatele nel davanti Se no Oh, c'è qualcuno su E già è anche Pi' forte di me Quindi mi devi andare via Eccolo, eccolo C'è dietro Saltella Corri 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 Non ce la fai Corri Mettiti la roba Non morire Poi sempre dietro Dietro? Sì, sì Il pichino Anche a chiesetta Quanto c'è il cane Che c'è guano Ora è un pochino meno indietro Sì Lui sta puntando alle scalette Quindi ti amo No, non scherziamo Quindi ci sta puntando alle scalette Ok, allora lo freghiamo E andiamo Ci sei intorno alla barca e tu Ok ragazzi Abbordiamo la nave Qualcuno? Qualcuno? Allora prendiamo la roba Bravo, bravo C'è una cesta anche qua Soprò non so come fai ad arrivarsi Io vedo sotto Nella stiva Sul verde Riesce a salire Ragazzi allora Ho trovato gli stick Ed ho Un diamante Se trovo Un altro diamante Ma non ce la fai a salire qua sopra? No Considerami Eh C'è una cesta qua sul verde Guarda il mio schermo Sì Sì Riesce a salire sul verde? Nulli Sopra sopra? Eh sì Sopra sopra Non lo so Potremmo non far messa a fare Due minuti per le ceste Non lo so Vabbè ce ne sono altre due qua giù Eh? Ce ne sono degli altri Dove? Devi uscire dalla barca Però di qua Sì C'è nessuno? No Ce ne è una lì sopra A questo coso Dove? Questo? Qui sopra? No Vai a dritto A destra scusa Uno è lì E uno è sotto Vicino all'acqua Quanti siamo? Tantissimi Non andate al centro Non andate Non andate Sta arrivando qualcuno? No Oddio Non so proprio Oh finalmente Dimmi se sta arrivando qualcuno No No Un fuoco Però voglio giocare a un tiro Cos'è ho trovato? E ora torno sulla barca Sto Ho trovato una spada Una spada Quale barca vai? Quella laggiù in fondo Dove ero prima No ragazzi Dove appuntare al diamante Se trovo il diamante è fatta Cliccare Dove Dove Spawnare una cesta Non capisco come funziona Eh no Scusa Oddio Cosa c'è? Eh non so come funziona Sinceramente È bella No Di solito Si trasforma poi In una cesta Questa è la cosa Che ti dice dove è Ah Vedi Guarda la luce in alto Rimani qua Rimani qua Appena arriva in fondo Si apre Oh eccola Che culo Cosa c'è trovato dentro? Oh porca troia Hai presa la roba? Si ho trovato Ho trovato Vai nel centro Via C'ho tutta l'armatura ragazzi C'è qualcuno al centro? Eh non riesco a vedere bene A regola no Tra 60 secondi c'è il death me Si di te controlla se c'è arriva qualcuno Gente 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 Due due Arrivano Arrivano a sinistra Mi rincorno Direi proprio di sì Mi roga Il genocchio vi ho visto Sei morto? Si Anche lui? No Ah però non possono prendere la roba Ultimo Però ti mi devi proteggere No No Si No Si No Non ti faccio pentare in casa mia Usa compasso dentro Sì 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 Guarda un po' se c'è qualcuno No Finisco io Apri quella la sopra tra le erbe l'hai presa? Quelle foglie Sì E dentro ci sono delle torte vero? Sì Ok si può andare Sì Andiamo in questa casina In questa casina Ti ho visto sparire Come hai visto sparire? Sì Sì Dov'è che si intono in questa casa? Sì Eccolo dove si intende Non me l'ha fatto costa Sì Aiuto Non ti metti nel mezzo Sì troppi 3.000 Sei sempre vivo? Però l'ho ammazzato No 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 l'ho ammazzato quell'altro Porcaccia la mia Wow Viene a vedere da me Viene a vedere da me Aspetta Oddio Chi è? Ok ragazzi Questo episodio volge al termine Perché abbiamo ospiti stasera E spero vi abbia divertito E come sempre ci trovate il prossimo giovedì Su sempre Mavic Channel I vostri mina e mina Linea allo studio Ciao ciao